Cerchi una ricetta per crema pasticcera semplice e golosa? Allora fermati perché l'hai appena trovata! Dai, vieni in cucina insieme a me! Per prima cosa versa i tuorli in una casseruola, aggiungi lo zucchero e la vanillina e mescola bene con un cucchiaio. Quando avrai ottenuto un composto omogeneo, aggiungi anche la farina e continua a mescolare fino a inglobarla perfettamente. Se vuoi ottenere un finish più lucido e setoso, ti consiglio di utilizzare l'amido di mais o l'amido di riso. Mescola bene, quindi aggiungi anche il latte. Mescola velocemente e porta la casseruola sul fuoco. Cuoci la crema fino a che non si sarà ben addensata, mescolando continuamente a fiamma dolce. Non appena la crema sarà pronta, versala in un contenitore basso e largo e coprila con un foglio di pellicola per alimenti a contatto. Questo passaggio farà sì che non si formi la pellicina in superficie raffreddandosi. Una volta che la crema sarà fredda, versala in una ciotola e... Eccola pronta! Guarda quanto è golosa! Ti è piaciuta? Lasciami un commento!